È una scelta sbagliata che non fa il bene dell'Italia e degli italiani. Il problema, come ho sempre detto, non è Bruxelles, non sono i rapporti tra Roma e Bruxelles. Il problema sono i contenuti di una manovra che non va nella direzione della crescita, non va nella direzione della riduzione della disoccupazione giovanile, non va nella direzione della riduzione della pressione fiscale, non va nella direzione della realizzazione di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo dell'Italia. Insomma, è una manovra che va contro gli italiani. Questo è il vero problema e purtroppo non è soltanto quello che dice Bruxelles, è quello che dicono tutti i mercati, tutti gli investitori, che dicono tutti gli italiani di buonsenso, che dice l'altra Italia, cioè quella che non crede alle cose che raccontano al governo. Perché non è la giusta direzione per tutelare gli interessi degli italiani. I segnali che arrivano dalla borsa sono assolutamente negativi e qui Bruxelles non c'entra nulla. È un giudizio universale, unico, quello negativo nei confronti di una manovra che dà dei dati della crescita irrealizzabili. Raggiungere l'obiettivo dell'1,5% è impossibile. Abbiamo visto che cala la produzione industriale, come possiamo pensare di avere una crescita dell'1,5%? Mi auguro che si superi lo 0, e si arrivi all'1, ma al massimo si potrà arrivare all'1,1. Ma serve già cambiare l'atteggiamento da parte di questo governo. C'è grande preoccupazione da parte di tutti gli imprenditori del nord Italia, ma non solo quelli del nord, da parte del mondo agricolo, da parte degli artigiani. L'Italia che produce è fortemente preoccupata per come si sta costruendo la politica economica nel nostro paese. Ma per quanto riguarda i danni provocati dal maltempo, certamente ci sarà flessibilità da parte della Commissione europea. Ma i danni provocati dal maltempo possono essere 0,1 o 0,3. E su quello 0,2 e su quello 0,3 ci sarà giustamente la flessibilità. Ci dovrebbe essere flessibilità, per esempio, se l'Italia decidesse di pagare i debiti per egressi che ha con la pubblica amministrazione. Il governo aveva promesso che avrebbe pagato tutto ciò che c'era da pagare, come lo aveva promesso Renzi, ma né Salvini né Di Maio hanno cambiato rispetto a Renzi. Hanno continuato a fare promesse che poi non hanno mantenuto. Sì, sarà una decisione che avrà degli effetti negativi sull'economia del nostro paese, spaventerà anche gli investitori. Però il problema non è a Bruxelles, il problema è a Roma. Inutile dichiarare guerre sante contro l'Europa per prendere voti. È una cortina fumogena che non nasconde la realtà del problema. La realtà del problema è che questa manovra è una manovra economica che non va nella direzione degli interessi degli italiani, che non va nella direzione della lotta alla disoccupazione, che non va nella direzione della crescita. Questo è il vero problema. Bisognava fare cose completamente diverse. Investire in infrastrutture, fare la TAV, fare il terzo valico, fare la gronda a Genova, ridurre fortemente la pressione fiscale attraverso la flat tax, cosa che non è stata fatta, aiutare le imprese che assumono giovani, garantire con intervento dello Stato anche prestiti per giovani che intendono avviare attività imprenditoriali o che vogliono formarsi per i mestieri più moderni, più competitivi, soprattutto nel digitale, realizzare infrastrutture anche digitali, perché è inconcepibile che al sud ci sia il 2G e al nord del paese ci sia il 5G, quindi ridurre anche le distanze reali che esistono tra il sud e il nord. Queste cose doveva fare una manovra economica che avesse a cuore l'interesse degli italiani. Questo non è stato fatto.